Scontro sulla pedemontana a Baldissero, all'altezza di Promonico, questa sera intorno alle 19. A scontrarsi due auto, una Fiat Panda, proveniente da Promonico, condotta da un 59enne di Ivrea, e una Fiat Punto, guidata da un 31enne di Valperga, diretto ad Ivrea. L'impatto è stato violentissimo. La Punto, dopo l'impatto, ha fermato la sua corsa contro il guardrail, mentre la Panda è stata scaraventata giù dalla scarpata e si è ribaltata. Sul posto i vigili del fuoco di Ivrea e Castellamonte, i carabinieri di Aglie, Castellamonte e San Giorgio Canavese, e due ambulanze della Croce Rossa di Castellamonte e di Ivrea. I due conducenti sono rimasti feriti, ma non sono in pericolo di vita. Entrambi sono stati portati all'ospedale di Ivrea. Entrambi sono stati portati all'impatto, ma non sono stati operati alle grandi scarpato, ma non sono stati portati all'impatto, tra Ram 가장 più rapidi eной az biblioteca nasce lo italiano. Grazie a tutti.